Pochi sanno sul piano dei dati che in Italia ci sono 25 milioni di edifici costruiti e uno penserebbe che sono distribuiti nell'arco di tre millenni, uno inizia a vedere le cose che sono ancora in piedi tra Serinunte e Segesta, vede i templi greci e vede anche tracce più antiche di ciò che è stato costruito ed abitato e addirittura come accade ad Agrigento che un tempio del VI secolo si è diventato una chiesa cattolica che è tutt'oggi frequentata. E procedi vedendo come sono distribuiti, ebbene tra il 2600 a.C. e il 1959 quando nasce Italia Nostra sono stati costruiti 12 milioni di edifici, sono 25, gli altri 13 milioni li hanno costruiti negli ultimi 50 anni, 13 milioni di cemento, di periferie inabitabili, di luoghi di pena con il pretesto di dar posto a persone che sono arrivate nelle città abbandonando i centri storici, sono gli storici dell'arte che non sono architetti, che hanno ambizioni, desideri, volontà di costruire, talvolta di distruggere, di lasciare la loro traccia. Lo storico dell'arte guarda, vede, ma non è un essere inutile, capisce. Le sovrintendenze miste che sono state abolite, che erano sovrintendenze per i dipinti e per le architetture, talvolta vedevano dotissimi storici dell'arte che capivano l'architettura meglio degli architetti, ne erano storici. Alla chiamata agli storici dell'arte all'Aquila per vedere lo stato di quella città, c'era Brai come osservatore. Il segnale è esattamente la seconda cosa che qui ripeto come principio fondamentale. Non può darsi governo civile in Italia che non intenda la ricostruzione dell'Aquila come suo primato essenziale. Non c'è altra cosa. Certo l'Emilia Romagna, con maggiori quantità di edifici colpiti, ma minore difficoltà economiche perché la ripresa è stata determinata da una volontà anche dei privati in molte aree in cui si può ancora continuare a lavorare. Ma l'Aquila è stata totalmente disabitata ed è uno scandalo, è immorale che dopo 4 anni non si sia ancora iniziato a ricostruire quella città e l'unica chiesa ricostruita sia stata San Biaso da Miternum con un intervento della Fondazione Roma con un presidente Emanuele Emanuele che ha messo i soldi, 4-5 milioni di euro, ma lo Stato poteva mettere ne ha messi 50, 60, 70, ma bloccato da 1109 leggi e ordinanze che imperiscono di fare quello che il privato ha fatto. E il prete Epicoco, mi pare che si chiami, che è stato vigilantissimo, è riuscito nei tempi più rapidi a rimettere in piedi questa chiesa. Allora, cosa può essere l'Aquila? Il luogo dove quel lavoro che aveva evocato della valle può veramente darsi, perché tu ne fai il più grande laboratorio di restauro del mondo, in cui rimetti in piedi in meno di 10 anni la città e specializzi architetti restauratori, restauratori della pittura, della scultura, delle arti minori, dei mobili, dello spazio urbano, dello spazio della città come luogo di vita dei viventi nella civiltà che la parola città rispecchia. E questo dice, ma com'è possibile farlo? C'è un esempio facilissimo, che molto piaceva, perché avete visto quella rovina simbolicamente del palazzo della provincia, ma dieci anni prima del terremoto, un bravissimo giovane pieno di ambizioni, quasi un filosofo di questi che amano e pensano, che si chiama Daniele Kilgren, di famiglia svedese, ha capito che occorreva cambiare quello sviluppo che ha distrutto tante città e tanti strati storici attraverso interventi falsamente innovativi, quei 13 milioni di orribili edifici che sono il ferro di cavallo a Perugia, la periferia di Ruvo, gli orrori della periferia di Palermo, lo Zen, tutto quello che è stato costruito inderoga a qualunque sentimento della civiltà e contro qualunque precedente che sia quello della grande civiltà architettonica, e cosa ha fatto? Ha preso un paese, Santo Stefano di Sessanio, e ha restaurato 80 case, che sono anche palazzi, così come vedete, così come vedete, e quello è diventato un grande albergo, come dicono, diffuso, in cui tu arrivi e vivi e senti quella vita perduta che è la vita dei sentimenti, delle tradizioni. E guardate invece cos'è lo Stato, quando io chiamandola a cancellieri, poi non fa niente, non risponde più al telefono, il prefetto di Ferrara, guardate cosa hanno fatto a Sant'Agostino, terremoto questa volta dell'Emilia Romagna di un anno fa, guardate, 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 questo edificio lo vedete, terremotato in pericolo, è nuovo, certo sul fianco dei problemi, qualunque ingegnere strutturista sa che si poteva rimettere in piedi, ma la città voleva il sangue, io ho fatto di tutto, ho chiamato la cancelliera, inutile chiamarla, non faccio e poi fa, oppure faccio e poi non fa, eccolo qua, guardate cosa capita fra un attimo, guardate cosa capita di questa architettura, eccola qua, buttata giù in questo modo, con lo Stato complice, questa è la mafia, lo Stato che distrugge la storia, vedremo cosa ci sarà poi in questo posto, quale architettura meravigliosa, di quale Fuxas, che spende 260 milioni di euro per il Palazzo della Regione, per consiglieri e assessori che devono stare insieme, i poverini si fanno compagnia per trovarsi meglio, quando Castellazzo Novarese, c'è un castello, 236 mila euro, non hanno i soldi per comprarlo, ma devono fare l'edificio di Fuxas che prende circa 9 milioni di parcella, questo castello meraviglioso abbandonato, se avessero distribuito senza tenere insieme per farsi compagnia agli assessori i 260 milioni di euro per restaurare il patrimonio come hanno fatto a Venaria Reale dove c'è la mostra di Mattia Preti, avrebbero restaurato castelli, ville, palazzi, no, dovevano costruire il Palazzo del Potere, le cose che sono state fatte, avete visto, vedrete altre paleoliche fra un attimo, se le mandano in onda, no, perché sono fuori con gli obblighi, quindi, ce l'hai, eccole qua, sentite un attimo, un momento di silenzio, gli uccelli, tutta la fauna, i terreni con il cemento che li invade, eccoli qua, 150 metri di altezza contro piccoli casolari che non vengono restaurati, la stessa cosa ovviamente vale per interventi grotteschi come quelli del Marco Aurelio che ho portato qui, per cui hanno fatto un trampolino di lancio, stava fuori, Michelangelo l'aveva messo in piazza Campidoglio, l'hanno messo qua dentro, guardate l'allestimento del cazzo che si poteva concepire per fargli fare un viaggetto verso il vuoto, è stato fuori 500 anni, l'ultimo, ecco dove si nasconde la follia degli uomini, mi dispiace che non potremo vedere in otto, ma passerà un'immagine degli artisti, questi che vedete qua, questo che vedete non è un dipinto dell'Ottocento, è un dipinto di un giovane che ha 35 anni, ha fatto la via Crucis per notto, così come tanti altri che hanno lavorato in quella chiesa ricostruita, com'era e dov'era, e spero che possiate andarla a vedere, ma invece eccolo qua, invece il ministro Brahim ha dato questa buona notizia, che voglio dire serve anche a dar ragione a Brunetta che ha fatto un'interrogazione parlamentare, ebbene sotto il campanile di San Marco hanno messo un gabbiotto per vendere i biglietti per andare a vedere le mostre, una cosa che non la si può guardare, e io che ho fatto il sovrintendente so che a terreno dove c'è il Floriani, il bar dove si va, ci sono 10.000 metri quadri di spazi demagnali abbandonati, dove c'è un poliziotto, dove c'è l'ultimo ufficio di sovrintendenza, tutto vuoto in mezzo ai topi e guarda cosa hanno costruito, quel gabbiotto di merda a riprova della totale assenza di sentimento dei luoghi e della storia, ecco mi pare che sia sufficiente e speriamo che quello che ha annunciato il ministro sia un atto di civiltà per restituire Venezia che è quella che è, perché non passano le macchine, perché il tempo è fermo ed è la città più bella del mondo, non roviniamola con i gabbiotti.